ola buongiorno oggi vi faccio un selfie col mio con mio texon pl365 qui a passeggio per alezio qua provincia di lecce nella villa comunale qui col mio figlio apparecchio portatile con la sua antenna stilo gli spagnoli arrivano perfettamente nonostante un antenna di appena 45 centimetri è un piacere ascoltare le hf qui con un piccolo apparecchio che pesa se no 100 grammi spagnoli arrivano perfettamente giornata alquanto nuvolosa un po di vento di tramontana siamo giovedì santo giovedì della settimana santa niente tutto a posto facciamo due passi con mio texon pl365 che sto ancora testando per bene ma vi dico che è veramente un ottimo ricevitore perfetto veramente un ottimo ricevitore da portare così appresso è come sulle tre pile a dentro qui hai un'autonomia di almeno di 15 ore più o meno e quindi mentre cammino così facciamo un po di footing oppure a passeggio che per la all'aria aperta mi ascolto anche la banda di 40 metri in questo momento 7.081 c'è degli spagnoli qua che chiamano una stazione spagnola ok auguro anche a voi di passeggiare qua col texon 365 qui un ottimo compagno qui per per fare ascolto perché effettivamente non può fare almeno di ascoltare questo è uno degli apprecchi migliori ideale proprio molto leggero antenna minima e ottima sensibilità ok un saluto a tutti qui da dalla zona 7 puglia a lezio provincia di lecce da giuseppe indiazzurro 0 g z w buona vasco a tutti